E' arrivato alla fine dei suoi giorni? No, chi è? Chi è? E poi, povere, no, l'ho sentito ieri ed è in forma, mi aspetta a pranzo, quindi non capisco queste robe che gli allungano la vita, Berlusconi è eterno, quindi non... Ho letto delle cose incredibili, ma gli ho parlato ieri però, non era una controfigura, quindi gli auguro lunga vita. No, no, lui mi ha invitato a pranzo, però era lui, non era una controfigura, quindi non... No, no, è un amico, ha fatto tanto, è un grande, quindi conto che si rimetta, insomma, è stato male di stomaco, ma capita anche a me ogni tanto di stare male di stomaco. Siamo tutti nelle mani del buon Dio, per carità, però penso che fra vent'anni saremo ancora qua a parlare del mal di stomaco di Berlusconi, con Berlusconi che mi risponde al telefono. Buon lavoro!